Innovative retail display products and packaging solutions. Polymer Logistics. Strive for more. Ogni giorno in tutto il mondo le persone acquistano da mangiare e bere dai banchi di negozi, mercati e supermercati. C'è chi produce il cibo e chi lo vende. Polymer Logistics garantisce che cibo fresco, frutta, verdura, bevande vengano trasportate e messe in vendita nel modo più attento, economico, efficace e bello possibile. Polymer Logistics è una multinazionale presente in diversi continenti. Fornisce imballaggi in plastica e sviluppa soluzioni logistiche. Casse, contenitori, pallet e moduli espositivi. Italia, Gran Bretagna, Germania, Spagna, Francia, Benelux, Est Europeo, ma anche Stati Uniti, Israele, Australia ed altri ancora. L'obiettivo di Polymer Logistics è produrre sistemi innovativi riducendo i costi, migliorando la gestione, aumentando l'efficienza per i nostri clienti. Nel settore agricolo, industriale e della grande distribuzione organizzata, ma arrivando anche a settori diversi dal largo consumo. Ogni anno Polymer Logistics movimenta in Italia e nel mondo milioni di cassette e milioni di pallets e contenitori. Partiamo dalla progettazione dell'imballaggio, capire quali sono le esigenze del mercato e andare a identificare quali sono i prodotti, le soluzioni logistiche, le espositive migliori. Sono alcuni dei marchi che hanno scelto la qualità dei prodotti e delle soluzioni di Polymer Logistics. È una multinazionale che ha cercato di fare dello sviluppo dell'imballaggio riutilizzabile il punto di forza ed è un'azienda che sta puntando sempre sull'innovazione. Polymer Logistics lavora in tutto il mondo. Lo fa riducendo i costi della logistica, valorizzando l'immagine dei negozi, fornendo soluzioni per trasportare e proteggere la qualità dei prodotti. L'Italia è un paese bellissimo. Noi di Polymer Logistics crediamo nella bellezza, nella semplicità e nell'innovazione. Sono le qualità che vogliamo portarvi con il nostro lavoro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.